Sessore Giuseppe Speranza, ieri sera un incendio di grosse dimensioni a Torre del Greco tra via Sant'Elena e via Boccea. Le fiamme sono arrivate quasi a 20 metri dalle abitazioni. Tanta paura, si ripropone ogni anno lo stesso problema. Fortunatamente non c'è stato nessun incidente a persone, ma a cose. Effettivamente l'appuntamento con i piromani sembra puntuale e precisa. Ogni anno quando inizia la stagione calda purtroppo quella zona diventa meta di qualcuno che evidentemente si diverte ad appiccare incendi. Infatti ieri sera con l'incendio è arrivato a pochi metri dalle abitazioni di via Sant'Elena, del campetto sportivo che abbiamo lì a via Sant'Elena e poi si è prolungato sulla zona di via Boccea. Come si è provveduto lo spegnimento delle fiamme? Diciamo che c'è stato immediato intervento del servizio di spegnimento dei vigili del fuoco. Sono stati impegnati circa una ventina di macchine tra automezzi e mezzi più piccoli per lo spegnimento. Infatti fortunatamente i mezzi più piccoli li abbiamo utilizzati perché ero presente sul posto fino alle 5 e mezza stamattina. Ero con loro, con i vigili del fuoco perché loro non conoscevano il territorio e li ho dovuti accompagnare tra via Boccea, via Ruggero. Cosa può fare il Comune per evitare che simili episodi si verifichino nuovamente? Io penso che l'amministrazione locale può fare poco o niente se non un'ordinanza intimando ai proprietari dei fondi di tenere puliti i fondi perché solitamente sono le erbacce che bruciano facilmente ma faccio fatica a pensare che non ci sia la mano dell'uomo. A che cosa serve a piccare un incendio solo per vedere le fiamme lambire o dietro l'incendio c'è qualche altra cosa a noi non noto? Sono tanti gli interrogativi. Io pregherei gli inquirenti di indagare e di approfondire questa questione perché addirittura qualche abitante della zona di Viale della Gioventù mi riferiva ieri sera che prima dell'incendio aveva udito delle esplosioni, degli scoppi. Vi rendete conto del danno ambientale che provocate e vi rendete conto del danno economico che provocate perché 20 macchine con tanti uomini impegnati per alcune ore costano e pesano sulle tasche dei contribuenti. Un danno ambientale, un danno economico ma un danno alla salute? Sicuramente ma anche un danno psicologico. Una preghiera ci appicca gli incendi. Pensateci un po' sopra prima di fare, pensateci un po' prima. Non è che solo per divertimento o per altri fini voi arregate un danno irreparabile alla comunità.